Lunedì 12 febbraio 2018, 43esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'acquario. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Eulalia e Damiano. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Conte. Deriva da soprannomi legati al fatto di essere collegati a dei conti, o perché al loro servizio o per gli atteggiamenti ostentati. È diffuso in tutta Italia. La variante Conti prevale nelle regioni centrosettentrionali. Conte e Contin sono tipici del Veneto, mentre Del Conte della Toscana. Contini è particolarmente rappresentato in Sardegna, mentre Lo Conte ha la sua diffusione principale in Campania, Lazio, Sicilia e Puglia. Accadde oggi. Il 12 febbraio del 1737 viene inaugurato a Napoli il Teatro San Carlo. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al regista Franco Zeffirelli, nato a Firenze, il 12 febbraio 1923. La citazione da ricordare. Non si può risolvere un problema adottando lo stesso modo di pensare che lo ha creato. Albert Einstein dice il saggio. Nel buio tutti i gatti sono leopardi. Proverbio del Kenya. Un consiglio al giorno. Le vecchie spugne sono intrise di grassi e hanno un aspetto triste. Non gettatele. Potete rigenerarle facilmente lasciandole in ammollo in un litro d'acqua, a cui avrete aggiunto del succo di limone. Se sono molto usurate, ripetete l'operazione. Infine sciacquatele e torneranno come nuove. Grazie. 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 Grazie.